Tre mesi fa stavo tagliando il prato nel mio cortile Poi arriva il postino con una lettera dell'esercito E ora sono qui E non ho idea di quale sarà la mia fine Cos'è successo? Certe domande non hanno buone risposte Boys, scopri che c'è dentro quell'area Ma che diavolo è? Chiusano a fare gli esperimenti Non è la nostra missione Noi dobbiamo farlo Fuora! Questa cos'è? Il Reich millenario richiede soldati millenari Che cosa mi hai fatto? Che c'è dietro quelle mura? Cosa fate a quelle persone? Gli abbiamo dato uno scopo Gli abbiamo dato uno scopo